Le nostre telecamere sabato scorso hanno mostrato la devastazione commessa da Manignote ai danni del parco urbano che insiste in via Pitagora nella zona di Piano Notaro a Gela, un parco l'unico esistente nel quartiere dal 2000 che doveva rappresentare un punto di ritrovo per i bambini. C'erano i giochi che teppisti senza scrupoli hanno raso al suolo. Un parco infestato da atti vandalici e da giovani irresponsabili. Chi ha visto quelle scene in tv non ha avuto remore e ha scritto una lunga lettera di denuncia pervenuta alla nostra redazione. Scrive a nome dell'intero quartiere. Da mesi si legge la condizione di vivibilità si è abbassata con una velocità paurosa, quasi una situazione di assedio. Ma chi sono gli assediatori? Si tratta, sottolinea, di una grande comitiva di giovani adolescenti gelesi dai 13 ai 16 anni di età, composta per lo più da maschi. Di sera si rendono protagonisti di comportamenti osceni e pericolosi sia per le cose che per le persone. Non sono mancati infatti lanci di bottiglie di vetro verso le strade adecenti alle due villette dove oramai i giovani risedono. Non sono mancati lanci di pietre e lampioni che sono stati rotti lasciando intere zone al buio o quasi. Come non sono mancati i finestrini delle auto rotti come se fosse un divertimento. Tutto questo fino a notte inoltrata. E lo scorso 18 dicembre, intorno alle 21, un gruppo di giovani sotto i portici della palazzina, a pochi metri dal parco vandalizzato, ha piccato un incendio ad una cassetta elettrica all'interno della villetta stessa. Solo l'intervento dei residenti, con l'ausilio di mezzi di fortuna, ha scongiurato il propagarsi delle fiamme. I residenti, si leggono la lettera, hanno paura ad uscire la sera anche per gettare semplicemente all'immondizia. Comandano loro, protagonisti delle inciviltà. Prima, in quella zona, si poteva passeggiare e fare giocare liberamente bambini. Ora questo non accade più. Secondo chi scrive, nella zona si registrano anche fenomeni di spaccio di droga. E oltre a questi ragazzi c'è che si macchia pure di furti nelle abitazioni e di auto. C'è paura, c'è abbandono, c'è rassegnazione nell'aria. E questa non la tolleriamo. Non possiamo permettere che le nostre case, le nostre strade, i nostri luoghi di ritrovo, dove cerchiamo un minimo di normalità, decadano così facilmente in mano ai delinquenti. Questa condizione, si legge ancora, ci va a sentire abbandonati ed impauriti. Si chiede più presenza delle forze dell'ordine, si chiede un intervento del comune. Ognuno faccia la propria parte. Come si pensa di crescere quando sei spettatore inerme di una involuzione così rapida e forte? Se una comunità o una generazione fallisce, è sempre colpa di tutti. Il disagio di questa città cresce e attendiamo risposte forti e certe da chi ne ha la facoltà e le competenze, oltre alla collaborazione di tutti i cittadini che sono i veri padroni del territorio.